Sì signore e signori come potete ben vedere dalle immagini è un altro appuntamento con Bagdi FIFA 14 guardate qui Raul Garcia la partita è cominciata neanche da un minuto pallone per Raul Garcia che fa questa cosa stranissima alla fine la prende anche però guardate qui è davvero un bug bellissimo uno dei migliori di FIFA 14 scusate il cambio e rivediamo da quest'altra inquadratura bellissimo e finisce così un altro appuntamento con Bagdi FIFA 14